Felice Devisia, esterno d'attacco del Macchia, arriva un pareggio nello scontretto con Lisernia. Tu sei stato uno dei migliori in campo da parte della tua squadra. 0-0 però potete fare di più, primo tempo, buono da parte vostra secondo tempo, a parte i primi cinque minuti dove avete preso la traversa con Mancini male. Secondo me abbiamo affrontato uno delle squadre candidati a vincere il campionato insieme a noi Treppini e Vasto Girardi, quindi è un buon pareggio sotto l'aspetto della partita, quindi sotto l'aspetto tattico, penso che 60 minuti abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra. Poi sono usciti loro anche per dei meriti nostri, però ripeto, Lisernia è una squadra attrezzata, quindi è anche giusto soffrire contro queste squadre. Poi ci sta, un pareggio che ci sta, potevamo fare di più. Oltre al punto rimane la cosa positiva che è impossibile farvi gol. Per fortuna, è uno dei nostri pregi, siamo cinque partite che non subiamo gol, è l'arma nostra più forte, dobbiamo migliorare sotto porta, quello è anche merito degli avversari, ci sono sempre gli avversari. Quello che si vede dalla tribuna, Felice, è che quando attaccate tu sei uno degli ultimi che ovviamente gioca la palla, invece quando vi difendete sei l'ultimo difensore, questo è uno schema fatto apposto. Io cerco di mettermi a disposizione della squadra, cerco di difendere e di attaccare, questo è il mio ruolo e ovviamente dobbiamo coprire, soprattutto dare una mano a chi è in difficoltà, in questo caso c'era il loro numero 9 che era molto bravo e ha dimostrato di essere uno degli under più forti di questa categoria. Non c'è tempo per pensare a questo pareggio, adesso c'è subito un'altra trasferta in campionato sul campo del Termoli, un'altra trasferta difficile su un campo difficile. Sì, conosco il mister Pregali, quindi so già che partita preparerà, sarà una partita dura, ci darà filo da torcere il Termoli sicuramente. Devisa, l'obiettivo vostro ovviamente è vincere il campionato, non sarà facile perché ci sono tante squadre, ma l'obiettivo primario è quello. Sì, non ci nascondiamo, l'obiettivo primario è quello, ma non siamo gli unici, ci sono squadre come ti ripeto, basta Girardi, Treppini e non per ultima Lisernia, che sono squadre attrezzate anche loro, si giocherà fino all'ultima partita credo. L'intesa con Panico cresce di giorno in giù. Sì, Nicola lo conosco, sono 5-6 anni, è uno degli attaccanti più forti di questa categoria, oggi non ha trovato il gol, ma sicuramente ci darà una mano e ci sta dando una mano perché Nicola è un grande. A livello personale invece cosa puoi dare a questa squadra? Io cerco di dare tutto, oggi sono uscito, ero stremato, spero di essere stato d'aiuto alla squadra, poi quello che conta è il risultato, l'aspetto del singolo conta a prescindere, se non si raggiungono gli obiettivi della squadra.